Omega Speedmaster First Omega in Space, l'orologio che rievoca l'era spaziale L'orologio da polso Speedmaster First Omega in Space è un tributo all'epoca d'oro delle esplorazioni spaziali e un'icona dell'innovazione ingegneristica. L'orologio da polso Speedmaster First Omega in Space è ispirato al modello indossato dall'astronauta Walter Schirra durante la missione spaziale Mercury Atlas 8 nel 1962. Questo modello commemora un momento storico e rappresenta la passione di Omega per l'esplorazione spaziale. Walter Schirra indossava lo Speedmaster CK2998 durante la sua missione spaziale, facendone un'icona dell'esplorazione. Il design dello Speedmaster First Omega in Space richiama lo stile degli anni 60, con la cassa in acciaio inossidabile dalle linee pulite e la lunetta con scala tachimetrica. Il quadrante e i dettagli del nuovo modello in oro rosa conferiscono un tocco di eleganza vintage. Tra le complicazioni visualizzabili sul quadrante abbiamo il cronografo su due subquadranti. Troviamo anche il contatore dei piccoli secondi a ore 9. In occasione del cinquantesimo anniversario della spedizione Apollo 11, Omega ha realizzato un'edizione limitata in due versioni. Lo Speedmaster First Omega in Space ha catturato l'attenzione di appassionati e personaggi famosi. L'orologio incarna l'audacia e l'eleganza, ed è stato indossato da celebrità e astronauti, consolidando la sua reputazione di pezzo d'arte e storia. Omega è stato uno dei fornitori ufficiali dell'orologio da polso per gli astronauti della NASA, dimostrando l'efficacia e la precisione del suo design. Lo Speedmaster First Omega in Space è una celebrazione dell'ingegneria e dell'innovazione che hanno reso possibile l'attraversamento dei confini terrestri. Lo Speedmaster First Omega in Space è molto più di un orologio da polso, è una finestra sul passato e sull'avvenire delle esplorazioni spaziali. Con il suo design vintage e l'omaggio alla missione Mercury Atlas 8, incarna l'animo pionieristico dell'uomo e la costante ricerca di nuovi orizzonti. Indossare uno Speedmaster First Omega in Space significa portare con sé una parte dell'eredità spaziale e condividere una connessione indelebile con l'avventura umana oltre i confini della Terra.